Via Libera in consiglio comunale ha un documento condiviso da entrambi gli schieramenti politici in difesa dell'ospedale di Sciacca e delle sue prospettive, stigmatizzata ancora una volta la natura di idea di primo livello solo sulla carta. Scontro ieri sera in aula Falcone Borsellino sulla decisione di rinviare il carnevale a maggio. Fabio Termine ha polemizzato con le scelte fatte dalle amministrazioni del passato, suscitando reazioni. Il sindaco parli delle scelte di oggi. Un latitante è protetto da tante persone, non è facile poterlo arrestare. Vi spiego come ci siamo riusciti. Così il tenente colonnello dei carabinieri Andrea Pagliaro ieri sera a Selinunte durante il concerto antimafia a nome loro. Ed è stato un grande spettacolo quello di ieri sera nel parco archeologico di Selinunte organizzato per festeggiare l'arresto di Messina Denaro. Numerosi artisti si sono avvicendati sul palco, tra di loro la rappresentante di lista. Domani le primarie del Partito Democratico. Michele Catanzaro parla della sua scelta di sostenere Stefano Bonaccini e accoglie nel PD Mariolina Bono. Sono contento, sono certo che non sarà un'adesione a tempo. Sport ha centrato il primato nazionale dei 60 metri piani. La diciassettenne s'accense Alessia Friscia ai campionati italiani indoor di atletica leggera paraolimpica. Per il calcio l'unità Sciacca attesa dalla trasferta sul campo del Parmonval. Bentornati su Telemonte Cronio per le nostre notizie aggiornate. Il Consiglio Comunale di Sciacca ha approvato ieri sera all'unanimità un documento relativo alle criticità del Giovanni Paolo II e alle richieste tutte finalizzate ad ottenere che l'ospedale sia a tutti gli effetti un dea di primo livello. Vediamo il servizio. Un documento approvato all'unanimità. Il Consiglio Comunale di Sciacca prende posizione sulla vicenda relativa alle criticità dell'ospedale Giovanni Paolo II e chiede con forza che la struttura diventi realmente dea di primo livello così come riconosciuto nell'ambito del piano di organizzazione della sanità regionale. Nel documento letto in aula dalla consigliera Carmela Sant'Angelo sono elencate dettagliatamente le problematiche dell'ospedale tutte riconducibili alla carenza di personale medico, infermeristico e ausiliario con reparti in cui ad operare sono pochi sanitari e il caso dell'ortopedia o dell'urologia altri in cui da tempo si attende la nomina del primario, la medicina così come la pediatria, chirurgia e anestesia per non dire dei cardiologi che da Sciacca sono stati spostati a Licata generando problemi di copertura dei turni nel reparto del Giovanni Paolo II e poi il pronto soccorso per il quale oltre alla copertura dei posti viene sollecitata un'accelerazione dei lavori che porteranno alla riqualificazione dei locali destinati all'emergenza urgenza. Il Consiglio Comunale di Sciacca ha poi evidenziato gli interventi necessari per migliorare l'emodinamica, la necessità di attivare il centro SPOC della rete talassemie, i posti letto in oncologia con la nomina del responsabile, l'attivazione dei posti di ematologia senza tralasciare le necessità della nefrologia e della psichiatria. Sollecitata inoltre l'attivazione dell'unità semplice di endoscopia digestiva così come la creazione della banca degli occhi, oltre all'amodernamento delle varie apparecchiature, al miglioramento degli ambienti, del comfort e della mensa. Far diventare effettivamente l'ospedale di Sciacca un dia di primo livello è la priorità e il passo principale è quello dell'attivazione della neurologia per poter inserire il Giovanni Paolo II nella rete della Stroke Unit. In tal senso qualche novità positiva c'è. è stato il presidente del Consiglio Comunale, Ignazzo Messina, che nei giorni scorsi ha incontrato assieme alla Commissione Sanità il commissario Zappia ad annunciare che l'assessorato regionale ha dato il via libera all'aspedia grigento all'utilizzo di una graduatoria già pronta e che consentirà l'assunzione dei medici necessaria per l'attivazione della neurologia. La politica s'accense ieri sera ha dato un forte segnale in difesa di un ospedale che non è solo della città, è stato ribadito, ma di tutto il territorio. Non sono mancati i riferimenti al percorso intrapreso per il riconoscimento del Fratelli Parlapiano come ospedale di zona disagiato alla riapertura del pronto soccorso. Ribera ha ottenuto un risultato politico, ma bisognerà vedere se si tradurrà in un risultato sanitario, ha dichiarato il consigliere Giuseppe Catanzaro, per il quale la complementarietà tra le due strutture non è e non dovrebbe essere una mera formula. Sciacca deve portare a casa, con una forte battaglia politica, il risultato di rendere Giovanni Polo II un dea di primo livello, ha detto il consigliere Calogero Bono. Il collega Fabio Leontat, al proposito, ha chiesto il coinvolgimento di tutti i sindaci del territorio e dei parlamentari. Una battaglia senza steccati è stato l'ospicio del sindaco Fabio Termine, per il quale, in vista delle nuove nomine e dei manager previste a maggio, occorre puntare su alcune priorità e obiettivi che possono essere raggiunti a breve con l'attuale commissario dell'ASP. Nel corso della seduta, dedicata alle criticità dell'ospedale, non è mancata la polemica, scaturita dal fatto che il documento era stato in larga parte già predisposto dall'opposizione, in particolare dalla consigliera Carmela Sant'Angelo, con il contributo del collega Nino Venezio, operatore sanitario. Uno sgarbo istituzionale, così lo ha definito la consigliera Daniela Campione, nei confronti della maggioranza e dello stesso sindaco. A replicare e placare la polemica sono stati Clelia Catanzaro, Ignazio Bivona, Nino Venezio e Raimondo Bruculeri, i quali ammettendo l'errore probabilmente nella forma, non nella sostanza, hanno evidenziato che si trattava di una bozza predisposta con l'unico fine di accorciare i tempi e consentire a tutto il Consiglio Comunale comunque di aggiungere, modificare o emendare. Così è stato, la seduta è stata sospesa per consentire la condivisione del contenuto del documento, che poi, a rientro in aula, è stato votato all'unanimità. L'unità del Consiglio Comunale, espressa sulla sanità, si è sciolta come neve al sole sul tema di grande attualità che, del resto, da sempre genera un acceso dibattito in città, il Carnevale. Seguiamo i dettagli nel servizio. È durata ben poco la compattezza del Consiglio Comunale di Sciacca. Ha approvato il documento sulla sanità, su richiesta dei consiglieri Bono, Maniscalco, Bivona, Sant'Angelo e Blò, ma tutta l'opposizione nelle scorse settimane aveva presentato un'interrogazione. Si è parlato del Carnevale. È stato il consigliere Calogero Bono a rappresentare l'esigenza di avere notizie sulla manifestazione spostata a maggio e sulle ragioni per le quali non è stata realizzata nel periodo tradizionale. Un approccio pacato, volta ad avere dettagli sull'affidamento del Carnevale ai privati, sul ticket, sul percorso e sugli aspetti relativi alla sicurezza, seppure il consigliere Bono abbia comunque espresso il rammarico per una festa che è stata fatta la scorsa settimana ovunque, tranne che a Sciacca. Il sindaco Fabio Termina ha sostanzialmente ripreso quanto dichiarato nei giorni scorsi in conferenza stampa, ossia che la decisione di spostare il Carnevale a maggio è stata dettata dalla necessità di garantire tutti gli aspetti della sicurezza, dopo le note vicende del 2020, e richiesta dagli stessi carristi. Ha evidenziato i costi contenuti, circa 100 mila euro grazie all'affidamento della gestione ai privati, e ha ribadito che il Carnevale a maggio è un'eccezione necessaria per far ripartire la festa. Il sindaco però è andato oltre, sostenendo che mai in passato il bando era stato pubblicato tre mesi prima della festa, per poi elencare dal 2012 al 2017 tutte le criticità, i ritardi e le manchevolezze in relazione all'organizzazione della festa e anche all'impegno di spesa. Un tuffo nel passato, limitato in realtà solo all'amministrazione in carica dal 2012 al 2017, che ha generato la forte reazione del consigliere Ignazio Bivona, che dell'amministrazione di Paola ha fatto parte. Alla città interessa cosa sta facendo la giunta in carica, quella che in campagna elettorale diceva di essere in grado di fare tutto e bene e non cosa hanno fatto in precedenza le altre, ha replicato Bivona, mettendo in evidenza poi tutti gli aspetti critici del bando riservato ai carristi, sui quali a suo dire sarebbero state scaricate tutte le responsabilità, così come quelli relativi al bando per l'affidamento ai privati, per il quale al momento ci sono solo delle direttive agli uffici. Il sindaco ha provocato una polemica politica inutile, senza nulla dire sugli aspetti per i quali avevamo chiesto chiarezza, ha poi aggiunto Calogero Bono, per il quale lo spostamento della manifestazione a maggio è legato solo ad incapacità organizzativa, posto che gli aspetti della sicurezza anche oggi non sono ancora definiti. Anche il consigliere Maurizio Blò non ha gradito l'intervento del sindaco, dal quale si aspettava delucidazione sul percorso, sul ticket e su tanti altri aspetti della festa ancora non chiari. Sul ticket il sindaco termina annunciato che sarà definito nel bando aperto ai privati, che sarà pubblicato la prossima settimana. Insomma il carnevale ha riaccesso gli animi e ha marcato chiaramente le diverse posizioni politiche in consiglio comunale. Ieri sera è stato approvato anche lo schema di convenzione relativo al distretto sociosanitario e poi l'impegno a costituire le comunità energetiche. Sono tre quelle previste in città, alla Perriere, in centro e in contrade Isabella. La loro costituzione consentirà in futuro di accedere ai finanziamenti per la realizzazione degli impianti fotovoltaici. Il consiglio comunale di Sciacca in apertura di seduta aveva ricordato l'ex consigliere scomparso recentemente, l'avvocato Gino Alessi, osservando un minuto di raccoglimento. E' approvato, su proposta del presidente Inazio Messina, un documento pro-Ucraina per la pace ad un anno dall'inizio della guerra. Ecco come abbiamo arrestato il boss. Il tenente colonnello Andrea Pagliaro, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Trapani, lo ha spiegato ieri sera a Selinunte nel corso dello spettacolo organizzato per festeggiare la cattura di Matteo Messina Denaro. Vediamo il servizio. Ecco come abbiamo arrestato il boss. A raccontarlo ieri sera al pubblico sul palco del concerto, a nome loro, musiche e voci per le vittime di mafia, evento organizzato al parco archeologico di Selinunte per festeggiare il riscatto siciliano dopo la cattura dell'ultimo latitante stragista di Cosa Nostra, è stato il tenente colonnello Andrea Pagliaro, comandante del reparto operativo del comando provinciale dei Carabinieri di Trapani. Lo ha fatto nel corso di un'intervista che gli è stata fatta dal giornalista Franco Nuccio, capo della redazione siciliana dell'agenzia ANSA. È importante evidenziare che è frutto di un'attività investigativa, un'attività investigativa che va avanti da tanti anni. Un latitante di mafia non si arresta in maniera semplice perché ha tutta una rete di favoriggiatori. Noi pensiamo al caso di Mani Pulite, c'erano imprenditori che avevano patrimoni inestimabili, eppure nessuno di loro si è dato alla latitanza, perché la latitanza necessita di un determinato circuito che lo favorisce. L'indagine, ovviamente molti dettagli non li posso rilevare, ma quando saranno disvelati sarà ancora più chiaro per tutti. Noi abbiamo capito da acquisizioni tecniche che il latitante stava male, aveva questa brutta malattia. E quindi attraverso un'analisi di metadati, quindi incrociando le persone che facevano determinate terapie, siamo arrivati a capire chi potesse essere. Da lì, nel momento in cui ha prenotato la visita nella clinica che nota ormai alla cronaca, sapevamo che quella mattina sarebbe andato lì, dalle nostre acquisizioni investigative. Abbiamo organizzato un'operazione complessa. Ecco, lo stiamo vedendo anche qui alle nostre spalle. Avevamo un dispositivo, in termini militari noi parliamo di cinturazione, avevamo una cinturazione stretta sull'obiettivo e una più ampia. Come punte di diamante il personale del ROS, la nostra punta nelle investigazioni, e il GIS, sono i nostri corpi speciali che sono stati istituiti nel 78 dall'allora ministro dell'interno Cossiga, che sono quindi intervenuti e l'hanno bloccato. E quindi noi dobbiamo dire una cosa, piena fiducia, assolutamente, e soltanto un grande grazie per quello che è stato fatto fino adesso, sperando però che si inizi anche a parlare, perché ci sono tanti vittime che hanno ancora bisogno di conoscere la verità. Così, il capo della redazione dell'ANSA, Franco Nuccio, ha commentato al nostro telegiornale l'importanza dell'arresto di Matteo Messina Denaro. L'arresto di Messina Denaro, che noi come ANSA abbiamo dato per primi, è stata una grande notizia, noi l'abbiamo data con grande emozione, significa molto per questo territorio. Voglio ricordare che noi abbiamo realizzato questa mostra fotografica su Falcone e Borsellino, che abbiamo portato in giro per le scuole di tutta Italia e anche all'estero, e a questa mostra mancava ancora un capitolo, cioè l'arresto dell'ultimo autore delle stragi. Adesso la mostra è completa, perché abbiamo aggiunto un altro pannello con le immagini della cattura di Messina Denaro. Che sensazione ti dà questa dietrologia che circola sul fatto che Messina Denaro si è fatto arrestare, lo Stato se avesse voluto l'avrebbe arrestato prima, che tipo di riflessione ti suscita? Ma guarda, noi abbiamo seguito tutta l'inchiesta, le indagini, abbiamo dato conto di quello che hanno fatto i carabinieri, la procura di Palermo, io credo che questa invece sia un'indagine esemplare. Come ha detto il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, esistono anche i terrapiattisti. Ecco, io sarei molto attento a fare dietrologie, per una volta abbiamo la possibilità invece di esultare per un grande successo che è stato ottenuto dallo Stato. Ieri sera il Parco archeologico di Selinunte ha ospitato un grande spettacolo con numerosi artisti che si sono avvicendati sul palco, utilizzando il linguaggio della musica come veicolo per ribadire un impegno totale contro la mafia e l'omertà, un evento organizzato dalla musicista castelvetranese Shade Mangiaracina. Vediamo il servizio di Massimo D'Antoni. Sono stati loro, Dario e Veronica della rappresentante di lista, a chiudere ieri sera nel Parco archeologico di Selinunte il grande spettacolo organizzato dalla jazzista castelvetranese Shade Mangiaracina. A nome loro, musiche e voci per le vittime di mafia, questo è il titolo del grande spettacolo che si è tenuto nel Parco archeologico di Selinunte su iniziativa della cantante jazz castelvetranese Shade Mangiaracina che ha chiamato a raccolta molti suoi amici artisti in una serata magica che è stata rivolta soprattutto a lanciare l'ennesimo grido della Sicilia vera che all'ombra dei templi di Selinunte ha ribadito tutta la propria bellezza contro la mafia, celebrando in questa maniera l'arresto dell'ultimo dei boss stragisti Matteo Messina Denaro. Il Parco archeologico è un po' l'antitesi della mafia, la cultura contro la mafia. Cosa significa per te essere qui oggi? Per me tanto è tornare in un luogo del cuore, un luogo dove sono cresciuto perché da piccolo venivo in questi territori perché mio padre è di Castelvetrano e poi vuol dire respirare, guardare questi luoghi con occhi diversi non tanto per noi che ci siamo cresciuti e che credo che abbiamo sempre saputo distinguere la mafia dalla bellezza che invece caratterizza le nostre terre ma per tutto quello che è un racconto che va fuori dallo stretto in Italia, in Europa e proviamo a ripartire anche dalla musica, da questa collettività che si riunisce per raccontare una Sicilia diversa. Ed è stato un nutrito gruppo di artisti, dall'Ello Analfino a Simona Molinari da Claudio Santamaria a Chiara Galeazzo, quello che si è avvicendato sul palco dando vita ad una serata bellissima. Noi siamo qui per esprimere la nostra vicinanza a questo territorio, a questa terra di gente che da sempre ha lottato contro le mafie e soprattutto per ricordare ai più giovani che l'antimafia non si svolge sui social ma si vive stando accanto a quella parte di società civile, alle forze dell'ordine che ogni giorno lottano contro le mafie. Il mondo lo sa, ma Castelvetrano è anche quello che c'è dietro alle tue spalle. Assolutamente, ma infatti proprio questo è il motivo per cui abbiamo scelto questo posto perché è un posto pregno di bellezza e quale posto migliore se non questo per ripartire e riappropriarci del nostro territorio. I tuoi colleghi, gli artisti che hanno accolto il tuo invito, cosa ti senti di dire nel loro compito? Soltanto un'enorme grazia con tutto il cuore, veramente per essere qui e per aver accolto questa follia. Gino Castaldo, è possibile dire che il linguaggio della musica permette anche di parlare di un tema così importante come quello della lotta alla maglia? No, è proprio la musica che lo deve fare perché siamo partiti dall'idea, in generale la nostra esperienza, che la musica fa bene, fa bene in tutti i sensi. Quindi quando il Shadet Mangiaracino ha lanciato questa idea è sembrata eccezionale, precisa, perfetta perché niente come la musica può dare la sensazione che un territorio possa essere anche un luogo di bellezza. E la musica può riunire, può far compagnia e può piano piano, con i messaggi che lancia e con gli artisti che credono in quello che cantano, possono pian piano arrivare all'inconscio e comunicare cose belle, se per me si deve ricominciare a credere e a costruire il bello. Ed il popolo presente, letteralmente impazzito, quando sono arrivati i Modena City Ramblers. Un concerto che ha dimostrato come il linguaggio della musica e dell'arte sia utile anche per lanciare messaggi di speranza. Nel Parco archeologico di Serenute c'è stata la sublimazione del contrasto tra la bellezza della storia e l'orrore della mafia. Durante la serata è stato letto un messaggio di Maria Falcone. Gentilissima Shadet, la giornata in musica che arriva dopo un mese dall'avvenuto arresto di Matteo Messina Denaro, l'ultimo dei boss di mafia responsabili della stagione stragista di Cosa Nostra, latitante da trent'anni, vi vedrà protagonisti gioiosi e testimoni sensibili del riscatto di questa nostra terra che per troppo tempo ha sofferto, mortificata dal potere della mafia, per continuare il cammino di liberazione avviato ormai tanti anni addietro. C'è gente! La nostra gente non merita di essere additata nella sua totalità come fiancheggiatrice di Matteo Messina Denaro. Lo hanno ribadito ieri sera Selinunte a margine dello spettacolo contro la mafia, il sindaco di Campobello di Mazzara Giuseppe Castiglione e il vice sindaco di Castelvetrano Filippo Foscari. Presenti alla serata di ieri anche il sindaco di Partanna e deputato regionale Nicola Catania e il vice presidente della commissione regionale antimafia Ismaele Lavardera. Vediamo il servizio. La nostra gente non è omertosa, non è giusto condannare comunità intere accusando tutti indistintamente. Così i rappresentanti dei comuni coinvolti nella vicenda della latitanza di Matteo Messina Denaro. Ieri sera al concerto contro la mafia che si è svolta a Selinunte c'era anche il sindaco di Campobello di Mazzara Giuseppe Castiglione. Un mese passa di riflettori accesi su Campobello di Mazzara. La somma algebrica com'è? Positiva o negativa? So che lei un po' si è risentito. No, vabbè, diciamo risentito relativamente. Io ho dovuto difendere la mia città perché ritengo che le accuse generiche lasciano il tempo che trovano. Invece la magistratura sta facendo un lavoro egregio e c'è il ringraziamento di tutta la popolazione per questa opera incisiva che stanno mettendo in campo per liberarci. Ma i cittadini, la maggior parte sono cittadini onesti e soltanto coloro i quali sono responsabili devono pagare. Quindi la generalizzazione è quella che non ci soddisfa ma la puntualizzazione invece è quella che è efficace. Sulla stessa lunghezza d'onda il vice sindaco di Castelvetrano, Filippo Foscari. Si è generalizzato e amo dire anche un altro pensiero. Non credo assolutamente che la latitanza di 30 anni di una persona, chiamiamola persona, va bene, possa essere definita soltanto dall'omertà del vicino di casa. Noi aspiriamo, anzi, non vediamo l'ora che venga fatta luce definitivamente, anche su livelli che non appartengono al vicino di casa e non appartengono all'omertà perché 30 anni fa, 40 anni fa l'omertà era figlia della paura in cui viveva questa terra e per cui dobbiamo uscire anche da questo concetto che comunque questo territorio finalmente può essere libero di recitare la propria cultura e la propria storia e la propria bellezza di questi luoghi. Lo spettacolo contro la mafia di ieri nel parco archeologico di Selinunti ha visto la partecipazione della regione, dei comuni di Campobello di Mazzara, Castelvetrano e del comune di Partan, nel cui sindaco Nicola Catania è oggi anche deputato alla regione. La musica è fondamentale, la musica è vita, la musica è bellezza e se vogliamo ripartire dalla bellezza di questo territorio quale migliore occasione di utilizzare gli artisti che si sono donati con questa loro disponibilità a rilanciare il territorio stesso ripartendo da qui, dalla bellezza della musica, del parco archeologico e del territorio tutto. Alla manifestazione di ieri sera c'era anche il vicepresidente della commissione regionale antimafia, Ismaele Lavardera. L'arresto di Matteo Messina Denaro non è la fine di un film, è la fine di un film che ovviamente tutti quanti noi stavamo aspettando ma è un nuovo inizio, è un inizio perché adesso bisogna indagare, capire, fronteggiare qual è la rete dei fiancheggiatori, cosa che ovviamente già la procura sta facendo e quindi aspettiamoci altre sorprese. La Sicilia ha bisogno di queste notizie, ha bisogno di sapere che lo Stato c'è. Nella nuova puntata di Vesper, in onda da oggi sulla nostra emittente, siamo tornati a parlare del tema della mobilità sostenibile attorno al centro storico di Sciacca. Un argomento complesso con punti di vista diversi, tra di loro che interessa anche gli aspetti commerciali e quelli residenziali. Ospiti del nostro programma, l'ingegnera Deborah Piazza, il responsabile della rete dei procuratori dei cittadini di cittadinanza attiva Nino Porrello e i commercianti Roberto Barrile e Giuseppe Caruana. Con un intervento esterno ha detto la sua anche un altro commerciante, il dottor Lello Bono. Vi proponiamo una breve anticipazione tratta dalla puntata. Non è trascorso molto tempo dall'ultima volta in cui a Vesper ci siamo occupati dei problemi che riguardano il centro storico, la viabilità soprattutto. Torniamo sul tema perché continua ad essere al centro dell'attenzione ed è doveroso da parte nostra dare voce alle diverse opinioni che circolano attorno, è proprio il caso di dirlo, attorno a questo argomento. Recentemente c'è stata un'iniziativa assunta da Cittadinanza Attiva dalla rete dei procuratori dei cittadini che ha fatto un'assemblea popolare parlando del tema della mobilità sostenibile, posto che il centro storico di Sciacca, anche per questioni che riguardano la sua stessa conformazione urbanistica, è particolarmente complicato da disciplinare rispetto ad un'ipotesi di transito veicolare che possa essere più o meno ordinato. Da un po' di tempo a questa parte l'amministrazione comunale tuttora in carica lo ha già dichiarato più di una volta, che punta a rendere il centro storico una zona non tanto a traffico limitato, ma proprio una zona pedonale a tutti gli effetti. Ci vuole solo la buona volontà e anche forse il coraggio, non mi riferisco in primis a questa giunta che è in carica solo sei mesi, il coraggio di prendere alcune decisioni che probabilmente in prima battuta possono essere impopolari o comunque occorre un percorso di riflessione e anche di cambiamento culturale che porta magari a mediare o a venire incontro di posizioni che a questo momento possono sembrare divergenti. Ormai è diventato non più rinviabile pensare ad una città che soprattutto tra l'altro in determinati periodi dell'anno diventi più fruibile in maniera diversa da quello che è attualmente, quindi ZTL per accompagnare ove possibile la zona delle pedonabilità, ma questo deve seguire un processo in cui l'amministrazione si mette a capo di questo processo e dice ok, commercianti che avete alcune esigenze, sappiate che noi vogliamo fare questo tipo di programma, stiamo portando avanti questo indirizzo e quindi assieme apriamo una riflessione e vediamo qual è la soluzione migliore. Lei ritiene che se ci fossero i parcheggi si potrebbe anche ipotizzare una chiusura del centro storico? Io sono ecologista e ambientalista come loro e quanto loro mi riferisco all'amministrazione e chiaramente è con i parcheggi che possono sopperire le esigenze di chi deve esprimere un lavoro nel centro storico della via Corso Vittorio Emanuele, via Roma, via Licata, trovando la dimensione dei parcheggi e più consono a venire nel centro storico. I parcheggi vanno sicuramente individuati, ma bisogna andare un attimo avanti e parlare del concetto di zone intermodali. Ci sono dei nodi che devono essere individuati nel nostro territorio e ce ne sono e ce ne possono essere. L'esempio del via Gaia di Garaffe è una sperimentazione disorganizzata che deve essere implementata, ma lì poi è anche una questione di gestione con il servizio del trasporto pubblico. Però ci sono queste zone, questi nodi limitrofi al centro che non si trovano in centro, che possono ospitare proprio quel nodo intermodale. Cosa significa? Uno scambio. Arrivo con la mia automobile privata, la lascio lì, poi prendo il bus navetta, oppure noleggio il monopattino elettrico, oppure mi sposto in bici se sono in una zona che non è vicina al centro storico e quindi non ci sono delle pendenze eccessive. Eventuali parcheggi più fattibili, come possono essere quello a Porta Palermo o nella proprietà Borsellino. Questo qui diminuirebbero anche l'utilizzo del bus navetta, perché chi arriva a parcheggiare lì fa due passi ed è nel centro storico. Quindi diamo la possibilità a chi vuole fruire del centro storico, che sia il Sacense, che sia il Forestiero, di poter arrivare nei pressi del centro storico parcheggiare e poi non ha bisogno più del bus navetta. Può fare due passi, non deve parcheggiare davanti il negozio, ma fa 100 metri e poi può andare a fare l'aperitivo, può andare a comprare e vivere il centro storico. Lo vivranno loro, lo vivranno i nostri bambini, i nostri figli, i nostri nipoti, che potranno evitare di fare la gincana tra le macchine parcheggiate sui marciapiedi. Continuano ogni giorno a giungere alla nostra redazione lamentele forti critiche per l'organizzazione della nuova stazione dei bus inaugurata nelle settimane scorse. I pendolari lamentano in particolare le difficoltà nel trovare un parcheggio per la propria auto per poi poter salire sull'autobus alla fermata. Ci sono lavoratori e studenti che sono costretti a lasciare la macchina in aree non autorizzate con il rischio scientifico di subire una multa. Come dire che per andare a lavorare si è costretti a pagare. Covid chiudono gli hub vaccinali di Sciacca e Agrigento dove ormai venivano effettuate poco più di 50 somministrazioni a settimana. Anche la situazione dei ricoveri è ridimensionata rispetto ai mesi scorsi. Insomma la fase critica sembra essere definitivamente superata. Lo ha evidenziato il commissario dell'Asp di Agrigento Mario Zappia, il servizio. La fase critica sembra essere definitivamente superata. Lo dicono i numeri relativi ai contagi e ricoveri in provincia di Agrigento. Ed è arrivato anche il momento della chiusura dei due hub vaccinali aperti in piena pandemia alla Casa Alberco per Anziani di Contrada Perriera a Sciacca e al Palacongressi di Agrigento. Abbiamo quattro persone solo in medicina a Ribera che nel frattempo ha accolto anche la medicina non Covid. Abbiamo stamattina quattro ricoverati in medicina a Ribera, quindi sono 4 e 4 nella giornata odierna e quindi stiamo iniziando a lavorare anche per fare in modo che venga sgravato un po' l'ospedale di Sciacca e venga data una risposta agli abitanti di quella zona. Anche per quanto riguarda i tamponi, quelli ufficiali nostri siamo al di sotto del 10%, mentre invece non vi dico nulla dei vaccini perché siamo arrivati a due cifre, quindi ho un pochino di ritegno nel dare queste comunicazioni di 59 vaccini in una settimana in tutta la provincia su 421.000 abitanti. Però tant'è e questo facciamo. Ovviamente il 28 chiuderà le due abbe e in ogni punto vaccinale per il Covid verranno rimodulate tutte le attività, ovviamente a ribasso. Il personale l'abbiamo già spostato e utilizzato all'interno della nostra struttura. Speriamo di mantenere tutto il personale Covid, soprattutto quelle professionalità che hanno dimostrato buona volontà al nostro interno e stiamo lavorando assieme alla Regione e assieme agli altri direttori per fare in modo che questo si concretizzi nel più breve tempo possibile. Nel consueto punto settimanale il commissario dell'ASPA ha fatto cenno alla recente nomina di Emanuele Cassarà, direttore sanitario, e all'ingresso nello staff dirigenziale di Adriano Cracò, soffermandosi poi sulla delicata questione dei concorsi per l'assunzione di nuovo personale. Stiamo facendo una serie di concorsi per la reumatologia, la dermatologia, la psicologia, i biologi e abbiamo già messo dentro quindi la missione dei candidati per la medicina interna, per il SUAP, malattie dell'apparato respiratorio e amatologia e 65 incarichi per ausiliare o specializzato. Queste sono importanti queste figure perché poi andranno a supportare il pronto soccorso ai reparti e gli ospedali, anche il territorio per tutto quello che è la messa in ordine nel decoro di tutti gli ambienti di lavoro e di accoglienza dei pazienti. Le criticità dell'ospedale di Licata saranno al centro di un incontro che il vicepresidente della Commissione Sanità dell'ARS, Carmelo Pace, avrà giovedì prossimo con i medici e il direttore sanitario del San Giacomo d'Alto Passo. Criticità relative alla carenza di organico che ha riguardato principalmente il reparto di pediatria. E oggi pomeriggio il congresso di Mizzica, il movimento politico che esprime il sindaco di Sciacca e diversi componenti della Giunta. Sono infatti previsti gli interventi di Fabio Termine, Salvino Patti, Francesco Di Mino e Agnese Sinagra, in programma l'elezione dei componenti del direttivo. Torniamo a parlare delle primarie per la scelta del nuovo segretario nazionale del Partito Democratico. Si vota domani dalle 8 alle 20. A Sciacca il gazebo sarà nella stazione di carburanti curreri. Il capogruppo all'ARS, Michele Catanzaro, punta su Stefano Bonaccini e dà il benvenuto nel partito a Mariolina Bono, entrata a sostenere Ellie Schlein. Vediamo il servizio. Per le primarie per la scelta del nuovo segretario nazionale del Partito Democratico si vota domani nei gazebo allestiti in oltre 5 mila punti in tutta Italia. A Sciacca si voterà nella stazione di carburanti curreri dalle 8 alle 20. Il capogruppo all'ARS, Michele Catanzaro, sostiene Stefano Bonaccini che in questo ballottaggio, aperto anche ai non iscritti, si contende la vittoria con Ellie Schlein. Io sono nel comitato organizzatore nazionale tra i 12 e sin dal primo momento ritengo e ho creduto che Stefano Bonaccini sia la figura giusta, esatta, concreta che possa rappresentare il Partito Democratico nel rilancio attraverso la sua energia popolare. Una consultazione aperta anche ai non iscritti, questo è un passaggio importante. Sì, assolutamente. Noi, come lo dico io, abbiamo fatto il secondo tempo delle primarie. Il primo tempo è stato quello degli iscritti al partito dove sono andati all'incirca 140-150 mila iscritti del Partito Democratico ad andare a votare. Hanno scelto Stefano Bonaccini con una percentuale del 54% e adesso c'è la seconda consultazione, c'è il secondo tempo che si dà la possibilità come momento di partecipazione sulla scelta del segretario del Partito Democratico. Il nostro, dice Catanzaro, è l'unico partito che regge il suo leader mobilitando la base. Ritengo che questa è una cosa davvero molto bella. Noi siamo il Partito Democratico attraverso sicuramente un confronto d'idea, un confronto democratico, però la scelta è democratica. Poi Catanzaro chiarisce il motivo per cui sostiene la candidatura del Presidente della Regione Emilia Romagna. Io ho scelto Bonaccini perché ritengo che Stefano sia la persona giusta, una figura autorevole che serve al Partito Democratico, soprattutto in questo momento, perché deve riprendere davvero per mano tanti temi e tanti elettori che abbiamo tralasciato negli anni, partendo dal lavoro a temi che hanno un effetto particolare come quello della salute, lo dico qua in Sicilia, ma lo dico anche a livello nazionale perché Stefano parla proprio di questi temi, sono temi ricorrenti dell'autonomia differenziata. Infine a Catanzaro abbiamo chiesto di commentare l'ingresso nel Partito Democratico di Mariolina Bono che sosterrà l'avversaria di Bonaccini essendosi candidata nella lista della Schlein. La considero in forma positiva, davvero, perché il Partito Democratico deve essere inclusivo e non esclusivo, come magari negli anni ha fatto degli errori. Nel 2013, quando ho fatto il mio ingresso, non è stato così un ingresso di benevolenza iniziale. Quindi considero anche però che questo sia un ingresso non a tempo, come lo hanno anche detto i due candidati a segretario, egli e Stefano, cioè significa chiunque vinca deve rimanere dentro il Partito con forma positiva, sicuramente costruttiva e spero che non sia quella forma divisiva e quella forma litigiosa che negli anni ha contraddistinto sempre questo Partito. Ricorre martedì 28 febbraio la giornata mondiale delle malattie rare. Per l'occasione l'associazione Fasted Schacca Onlus ha organizzato un momento d'incontro e confronto dedicato ai soggetti affetti da talassemia. Una santa messa sarà celebrata da padre Alessandro Campanella nella cappella esterna all'ospedale di Schacca con inizio alle 16.30. La talassemia o comunemente conosciuta come anemia mediterranea, malattia ereditaria del sangue, raccoglie a Schacca un gruppo di 120 pazienti in cura presso la struttura ospedaliera del Giovanni Paolo II di Schacca, un reparto diretto dalla dottoressa Lilla Gerardi, responsabile del centro di diagnosi e cura delle talassemie, che nel 2021 ha permesso al primo paziente siciliano di curare la malattia grazie ad una tecnica innovativa. Cambiamo argomento, Lions Club Schacca Ost e Croce Rossa sezione di Agrigento insieme per parlare di manovre di primo soccorso e pratiche salvavita. Il service si è tenuto presso l'Aula Magna del Plesso Miraglia dell'Istituto Don Michele Arena di Schacca alla presenza di oltre 200 studenti. Vediamo il servizio. Viva Sofia! È questo il titolo del service che si è tenuto ieri mattina a Schacca, proposto dal Lions Club Schacca Ost e dalla Croce Rossa italiana Comitato di Agrigento. L'iniziativa si è tenuta all'interno dell'Aula Magna del Plesso Miraglia, appartenente all'Istituto Don Michele Arena di Schacca. Un convegno interessante e dalla valenza preziosa, che si è svolto alla presenza di oltre 200 persone, tra studenti e docenti dell'Istituto. Si è parlato soprattutto di primo soccorso e di tecniche salvavita, perché, come afferma il motto, due mani per non perdere la vita a costo zero sono il più grande regalo che possiamo donare. Viva Sofia è un corso di primo soccorso, con lo scopo di sensibilizzare e formare le persone presenti all'importanza della salvaguardia della vita umana in condizioni di emergenza, in attesa dell'arrivo dei soccorsi avanzati. Si è parlato dunque delle manovre specifiche che possono salvare una vita e che chiunque può apprendere e utilizzare in caso di necessità. Un'aiuto efficace in caso di emergenza. Le manovre salvavita dovrebbero essere un patrimonio comune e il Lions Club Schacca Host è sceso nuovamente in campo per servire e donare a queste competenze, insieme ai componenti della Croce Rossa. Tra i presenti tanto entusiasmo, interesse e curiosità. I complimenti vanno innanzitutto ai volontari della Croce Rossa, che sono stati capaci di mantenere alta l'attenzione dei presenti. È intervenuto anche il docente Alessandro Randazzo, che ha avuto parole di apprezzamento nei confronti della presidente del Lions Club Schacca Host, Giuseppina Bonafede, per l'attività proposta, naturalmente accolta con entusiasmo anche dalla dirigente scolastica Daniela Rizzuto. Un'azione sinergica, quella tra Lions e Croce Rossa, perché se da soli si fa tanto, insieme si fa di più. Adesso vi proponiamo, come ogni giorno, la rubrica il libro del giorno. Inverno demografico e davanti a noi si stendono pianure infeconde e ghiacciate da far impallidire il trono di spade. Nella mente risuonano ecchi di tragedie scespiriane. In Italia non si fanno più figli. Dove andrà a finire la nostra civiltà, ma soprattutto chi pagherà le nostre pensioni? Ma che senso ha insistere a credere che l'unico modo per tenere in piedi il sistema sia procreare anche laddove le donne, pur essendo nelle condizioni di fare figli, non li vuole? Tante donne, ma anche alcuni uomini, che hanno raccolto la sfida lanciata da Simonetta Shandivashi, con lucidità e ironia sulle pagine dello specchio e inserto culturale della stampa, una sfida a interrogarsi sui motivi per cui si diventa genitori oppure no, a ragionare sulle diverse possibili fisionomie di una famiglia. Una carrellata di interventi non ortodossi, pieni di intelligenza e senso critico, un vademecum fondamentale per chiunque si è interessata all'argomento, i figli che non voglio, di Simonetta Shandivashi, edito Mondadori. Ha centrato, siamo in pagina sportiva, ha centrato il primato nazionale dei 60 metri di atletica leggera, l'atleta 17enne Saccenzi, Alessia Friscia, con il tempo di 8 secondi e 47 centesimi. È successo ieri nel Palasport di Ancona, dove si stanno svolgendo i campionati italiani indoor di atletica leggera, paraolimpica. Tesserata con la polisportiva Agatocle di Sciacca, Alessia ha partecipato anche al giro di pista sulla distanza dei 200 metri. Grande soddisfazione ha espresso il tecnico della nazionale, Orazio Scarpa, in questa prima giornata gare. Alla giovane atleta Saccenzi le nostre più vive congratulazioni. Calcio, campionato di eccellenza. L'Unitas Sciacca è attesa dalla trasferta sul campo del Parmonval, formazione che occupa l'ultima posizione della classifica. Per i Neroverdi tre punti d'obbligo per continuare a puntare alla zona play-off. Vediamo il servizio. Sarà lo stadio Franco Lomonaco di Palermo ad ospitare oggi, nell'anticipo, la sfida tra Parmonval e Unitas Sciacca, valevole nell'ambito della ventitreesima giornata del campionato di eccellenza a girone A. Dopo aver affrontato in successione le prime della classe, ossia Enna, Aggas e Don Carlo Misilmeri, i Neroverdi sono attesi dalla partita contro l'ultima della classe, con l'obiettivo di tornare a vincere ed ottenere tre punti, che sarebbero di fondamentale importanza per l'inseguimento dell'obiettivo play-off, in questo momento distante tre lunghezze. Il calendario dello Sciacca potrebbe essere da qui in avanti favorevole per fare in modo di conquistare la quinta posizione. Al momento, in classifica, oltre all'Enna capolista, in zona play-off troviamo Aggas, Profavara, Don Carlo Misilmeri e, a pari punti, le due squadre di Mazzara, ossia Mazzara e Mazzarese, poi a seguire, come detto, lo Sciacca. L'avversario odierno, la Parmonval, invece, ha soltanto otto punti in classifica e, ultima, viene da cinque sconfitte consecutive e sembra ormai rassegnata alla retrocessione diretta, posto che anche i piazzamenti utili per la zona play-out sono piuttosto lontani. Nell'Unitas, in panchina, torna il tecnico Totò Brucculeri, dopo la squalifica scontata sette giorni fa contro il Misilmeri al Gurrera. Queste le partite in programma per la ventitresima giornata del torneo, ottava giornata del girone di ritorno. Oggi tre anticipi, quelli tra Parmonval e Unitas Sciacca, Cus Palermo contro Mazzara e Castellammare contro il Casteldaccia. Domenica il resto degli incontri, ossia Misilmeri ospita il Resultana San Lorenzo, Enna attende la Leonfortese, Nuova Città di Gela contro Nissa, Profavara contro Akagas e infine Mazzarese ospita l'oratorio San Giure Giorgio Di Marineo. Ed infine arti marziali trasferta ad Erice per la società Bushido Team di Sciacca impegnata alla Coppa Atena, interessante trofeo regionale di kickboxing. Vediamo il servizio. Gloria Amplo, Ismaele Albino, Elia Tulone, Samuele Graffeo e Pascal Friscia. Sono questi gli atleti del sodalizio Bushido Team di Sciacca che domenica gareggeranno ad Erice presso il Palacardella nell'ambito della gara targata VMKF denominata Coppa Atena 2023. Si tratta di una competizione a carattere regionale durante la quale i giovani atleti saccensi si disimpegneranno nelle specialità semi-contact e light contact. Ne abbiamo parlato con il maestro Francesco Graffeo della Bushido Team. Maestro Graffeo, domani è la Bushido Team in trasferta ad Erice con una gara di kickboxing. Di che cosa si tratta? Si tratta di un campionato a carattere regionale, porterò cinque ragazzini. Sono gare che servono per accumulare esperienza per poi affrontare situazioni un po' più importanti a livello a carattere nazionale. Anche perché sono tutti nuovi elevi, ma con ciò non significa che non andiamo lì per vincere ovviamente. I ragazzi sono sempre ben allenati e quindi si va lì per fare bella figura in primis. Poi i ragazzini sanno che c'è la vittoria e c'è la sconfitta e quindi devono sapere affrontare sia l'una che l'altra. Anche perché il nostro sport, io la reputo una scuola di vita, sia nello sport che come nella vita esiste la sconfitta e loro devono sapere affrontare entrambe le situazioni. Tra l'altro loro sono quasi tutte alla prima esperienza? Sì, ma a me non piace rimarcare il fatto che è come se io stessi creando un alibi a loro per un eventuale sconfitto e quindi una giustificazione. Sì, sono la prima esperienza, perciò come detto poco fa non significa che non andiamo lì per vincere. Poi se troviamo l'avversario che è più bravo, si ritorna in palestra e si lavora per migliorare la situazione. Domani che gara sarà? Che squadre ci saranno? È un torneo a carattere regionale, quindi si prevede scuole del Palermitano, Trapanese, Agrigentino, ci saremo noi, Catanese, quindi bene o male viene toccato tutta la regione Sicilia. Per quanto riguarda in generale il movimento della kickboxing, a Sciacca che numeri abbiamo? No, io sono tra i fortunati perché bene o male il nostro vicino di utenza è abbastanza importante, quindi riesco sempre a riempire i turni e a lavorare bene. Che sport è? Che disciplina è per chi volesse avvicinarsi? È uno sport tra i più completi, anche perché c'è un lavoro abbastanza importante, non solo a livello tecnico, ma è un lavoro importante anche a livello cardiovascolare, a livello anaerobico, quindi a livello muscolare. A livello mentale c'è molta concentrazione, perché quando si combatte, ovviamente la prima cosa su cui si deve lavorare è la preparazione mentale. Quindi poi a livello fisico lavoriamo con tutti e quattro gli arti, quindi tutte e due le braccia, entrambe le gambe. Non è uno sport di squadra, quindi sai che sei da solo e te la devi cavare da solo, quindi aiuta anche a avere una formazione di crescita a livello personale abbastanza importante. Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti ci saranno anche a gare? Assolutamente sì, il programma è abbastanza ampio e quindi i ragazzi hanno tante possibilità di fare esperienze e di gareggiare. Per il momento è tutto, io mi fermo qui, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS